Nel Giocevo riparte la campagna tesseramento dell'AMPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, un segnale sempre forte nei confronti di questa associazione, sempre più spesso al centro di polemiche, anche molte volte surrettizie, strumentali, però è l'unico o forse uno dei pochi retaggi che ha questo Paese e di reminiscenza storica delle proprie origini repubblicane. Voi su questo battete in maniera indefessa. Abbiamo iniziato ieri e la novità di quest'anno è che il gazebo di Benevento è stato accompagnato anche dal gazebo di Montesarchi e dal gazebo di Morcone, perché sono nate due sezioni territoriali che hanno già dato i primi frutti, perché dai primi risultati abbiamo più che triplicato il numero di quelli che sono venuti a farsi la tessera e tra questi un numero abbastanza rilevante di nuove adesioni all'AMPI, il che in un certo senso risponde implicitamente alla tua questione. Siamo al centro spesso di polemiche, perché probabilmente la presenza dell'AMPI è una presenza che dà fastidio a qualcuno, in quanto è un luogo dove le persone vengono perché non vengono a chiedere posti. Chi viene a iscriversi all'AMPI, sono soprattutto molti giovani che vengono a iscriversi, vengono perché c'è un desiderio e un bisogno di una politica alta e di una politica pulita, che parta senza nessun ombra di dubbio da quelli che sono i pilastri della nostra vita democratica, cioè la storia della resistenza e la Costituzione. Grazie a tutti.